Credo che dovremmo reclamare diritti imprescindibili per i bambini e lottare per il loro riconoscimento universale. Signore e signori, l'MVP of the Week, ovvero il migliore in campo della settimana di Edway, è Eglantine Jeb, nata nel 1876 a Ellesmere, nella contea dello Shropshire. Ebbene sì, Dear Andrew, oggi nel nostro metaforico giro del mondo, diciamo così, in 80 MVP, facciamo tappa nel Regno Unito. Il motivo della sosta è tutt'altro che banale. Ti basti sapere che la Chiesa d'Inghilterra ogni anno sul suo calendario liturgico onora la memoria di Eglantine ricordandone vita e opere. vita che si sviluppa nella sua prima fase presso la tenuta della ricca famiglia dalla quale Eglantine Jeb proviene. Successivamente, dopo aver studiato ad Oxford, diventa dama della Croce Rossa, prestando servizio nel corso della Prima Guerra Mondiale. Ed in questo periodo tocca con mano, e più ancora direi tocca con il cuore, la sofferenza di milioni di bambini, dovuta agli strascichi dello scontro bellico. Qui permettimi, Andrea, di ricorrere all'anedotica, a me, a noi, tanto cara. Prego. Siamo nel 1919, nel centro di Londra. Una donna, nonché nostra MVP di giornata, distribuisce senza l'approvazione del governo alcuni volantini, che ritraggono due bambini malnutriti, denunciando che, cito testualmente, ogni guerra è una guerra contro i bambini. Per questo viene arrestata. In sede di processo, la Jeb, spaventata, ritratta le sue posizioni. Ma manco poi sbaglio, eh? Ci stavi per cascare. No, con il suo carisma peculiare, non a caso ci si riferiva a lei come The White Flame, continua a perorare la causa dei bambini e soprattutto ad inchiodare i governi alle loro responsabilità in merito. Al termine di questo procedimento giudiziario verrà dichiarata colpevole, seppur multata solo di cinque sterline, e questo, come scrive lei alla madre, equivale ad una vittoria. Concludo poi con una storia nella storia. La multa viene pagata dal giudice del processo, impressionato dall'impegno e dalla passione per la causa mostrati dalla donna. Stavi dicendo, scusa? No, no, appunto, volevo riportare appunto il fatto che le cinque sterline vengono pagate dal giudice. Ah, ok, sì, sì, confermo. Quella stessa donna di cui stiamo parlando, che continuerà a battersi con brillantezza e determinazione, sempre in prima linea, tanto nell'assemblea di piazza, quanto in ingenti raccolte fondi, sempre con la forte convinzione che aiutare i bambini costituisca la premessa per un futuro migliore per l'intera società. Ti dirò di più quella stessa donna che il 19 maggio 1919, insieme alla sorella Dorothy, ha fondato l'organizzazione Save the Children per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. Tuttavia, non è per questo che l'abbiamo scelta come MVP, o meglio, non solo per questo. Infatti, tenendo conto che dopo Emil Cole è il secondo personaggio insignito postumo della palma di MVP, infatti per dovere di cronaca va detto che Eglantina è morta in quel di Ginevra nel dicembre del 1928. Ma, al netto di tutto ciò, il motivo della nostra scelta ha una forte correlazione con l'attualità. Infatti, oggi cosa si celebra? Oggi, che è il 20 novembre, si celebra la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e per l'adolescenza. Oggi è il 20 novembre appunto perché si celebra la commemorazione della firma e della stesura della Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza firmata appunto a New York nel 1989. Ebbene, l'embrione di questa convenzione risale al 1924 ed è rappresentato dalla prima carta dei diritti del bambino, scritta, indovinate un po' da chi? Proprio così, da Eglantina e Jeb. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? No, non aggiungo altro Stefano. Allora, la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sarà tema della prossima puntata, visto che è un tema molto molto importante, sia per quanto riguarda lo sviluppo umano, sia per quanto riguarda poi i risvolti che ha sull'educazione, quindi stay tuned. Lunedì parleremo approfonditamente della CRC, della Convention of the Rights of the Child. Quindi questa giornata internazionale per noi si dilata e prenderà anche il weekend fino a lunedì. Esatto, quindi state con noi, seguiteci anche lunedì, seguiteci anche sui nostri social se volete, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, oppure scriveteci una mail, la nostra mail alla posta info-edwayimpresasociale.com oppure sul nostro sito internet www.edwayimpresasociale.com Ringraziamo Stefano per l'approfondimento sull'MVP di oggi, si conferma ulteriormente un grandissimo ricercatore di talenti, grazie Stefano. Sono tornato saldamente in sella, eh? Assolutamente. Buon weekend Andrea, buon weekend a tutti. Ciao, ciao. Grazie a tutti.